È stato fondamentale per ridare spazio a quello che è il mondo extraspedaliero. Chiaramente loro la battaglia l'hanno già vinta e quindi questa partita è un ritorno alla normalità vera e proprio. In campo c'è stato tanto agonismo, anche tanta sportività ed è stato bello vederli correre anche più di noi. Quindi è un ritorno alla normalità a tutti gli effetti. Un grande messaggio etico, sociale. Per i ragazzi, per tutto lo staff era una giornata particolare perché avevamo di fronte un avversario per noi importante che è fatto anche da una rappresentativa di operatori e c'era anche qualcuno che ha visto questi ragazzi in corsia e li ha visti fare un percorso e poi rivederli in campo sicuramente regala delle emozioni. Quindi abbiamo messo tutto il massimo nel nostro impegno, soprattutto per cercare di affinare determinate organizzazioni di gioco, l'affinità perché non ci dimentichiamo che noi abbiamo anche ragazzi e ragazze che vengono da fuori Palermo, da Salemi, da Vigento e da Tramone. E quindi sulla base di questo, in considerazione anche delle alte temperature, abbiamo cercato di fare attenzione a tutto quello che potesse permettere alla squadra di potersi esprimere al meglio di quelle che sono le sue caratteristiche. E poi il gioco, non perché lo dico io, ma soprattutto dai papà, dai genitori simpatizzanti che hanno visto la partita, sicuramente questa è stata la cosa più bella, al di là voglio dire anche di una vittoria arrivata ai rigori.